Cosa reggi in mano, cara? È la pagela di Toscec, che ignorano tu e stai rimandandoci. I casi fisica, matematica e scienza, è colpa tua. Come colpa mia? Te l'avevo detto di non mandargli a scuola. E con questo? Cosa vorresti dire? Ne ho votato le mie che possito per adesso. Cosa volete in questo preciso momento da me? Ha detto padre che il fattetto. Ci tenete a casa da scuola? Bra, Riegel! Ve l'ho sempre detto che era una cosa inutile. Bra! Era ora. Dom, contetta te. Grazie per la visione! Grazie per la visione!